Parte piano seduttore OM, se detrae Scorpione OM. Allo stacco prova a prendere il comando Spartacus PDL nei confronti di Serafino Spin. Veloce anche Shumi Praed a largo. 14.5 il lancio di Spartacus PDL che allunga a metà della prima curva. Shumi Praed in cerca di posizione che al momento non trova perché serra sotto Serafino Spin. 400 iniziali in 29.9 con Shumi Praed che ritorna alla carica. Chi di strada a oltranza Serafino che sollecitato con la frusta lascia in tenda di voler correre al comando. Shumi Praed però insiste ulteriormente 44.8 i primi 6. La spesa è evidente, sfonda poi Shumi Praed mentre galoppa in terza posizione Serafino Spin. L'errore anche di Spartacus PDL. Il mezzo miglio iniziale in 59.7, 14.9 di frazione. Scorpione OM si ritrova secondo davanti a Scarlett Griff per corsia esterna e Samauer. Si affaccia Scarlett all'altezza del chilometro in 15.5. Shumi Praed in evidenza è scoffiato, avvicinato da Scarlett Griff e Samauer per linee interne. Scorpione OM storico caffa quando si va all'imbocco della curva conclusiva. Shumi Praed mette insieme tre quarti miglio in 1.30 e mezzo. 14.9 la frazione. Prova ad impidarsi Scorpione che subisce la discesa di Shumi Praed e la quale è attaccato ora da Scarlett Griff. Samauer che prova a riproporsi in terza ruota all'ingresso in direttore. Scarlett e Samauer che vanno su Shumi Praed. Shumi Praed ancora in vantaggio. Scarlett Griff che ci prova. Samauer studisce la lotta. Shumi Praed si difende. Shumi Praed si salva da Scarlett Griff e al terzo posto termina Samauer. 1.59.9 il totale. 29.5 gli ultimi quattro. Lo 14.9. La media al chilometro del numero 6. Shumi Praed con Pasquale Palumbo. Il colonia e la scuderia Maria Di Sauro. Il training di Domenico Pasciucco al secondo posto. Il numero 8. Scarlett Griff. Terzo il numero 2 di Samauer. Qualche recriminazione dopo il traguardo tra Pasquale Palumbo e Cosimo Fiore. Per quello che è accaduto comunque all'imbocco della curva conclusiva. Sul traguardo arrivo ovviamente ufficioso. E 6.8.2 con il primo piano di Shumi Praed. E 6.8.2 con il primo piano di Shumi Praed.